Musica Ciao a tutti e bentornati sul mio canale dove potete trovare idee per ricette alti, veloci e facili. Se vi piace un video di questo genere lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanellina e seguitemi sul mio profilo Instagram e sulla pagina Facebook dove pubblico tante altre ricettine di cui non faccio i video. Oggi vi faccio vedere come ho preparato queste due pokeballs con degli abbinamenti con il tonno super super approvate in modo tale che se volete potete anche replicarle. Per una ho utilizzato il tonno crudo, per l'altra il tonno cotto. Nella prima con il tonno crudo ho messo come base 60 g di couscous già cotto, pomodorini tagliati a pezzettini e il tonno crudo che ho lasciato marinare per qualche ora nel limone, salsa di soia e olio. Poi aggiungo, mi piace molto, la cipolla caramellata che faccio stufare in padella con zucchero di canna, aggiusto un cucchiaino e faccio andare con il vino bianco. Ho aggiunto il mango a pezzettini e l'avocado, il mango nelle bols mi piace davvero tanto. Per l'altra poke ho messo come base l'insalata, poi ho aggiunto sempre i pomodorini, i peperoni tagliati a pezzettini crudi e poi ho fatto cuocere il tonno in padella con giusto un filino di olio, sale e pepe. Vado ad aggiungere anche la cipolla caramellata e qui ci aggiungo solo il mango. Come salsa possiamo utilizzare la salsa terriachi oppure la maionese, questa calvè, avocado e lime. Ovviamente potete scambiare molto facilmente, secondo la vostra fantasia, tutti questi ingredienti. Queste sono solo due idee super super approvate che mi piacciono tanto e se ne volete delle altre fatemelo sapere nei commenti e registrerò qualche altro video qui su YouTube o anche su Instagram. Io spero che questo video vi sia piaciuto, se è così lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanellina e seguitemi sul mio profilo Instagram e sulla pagina Facebook dove pubblico tante altre ricettine di cui non faccio i video. Detto ciò vi saluto e vi aspetto al mio prossimo video. Ciao ciao! Ciao!